Questo sarà il miglior weekend della nostra vita. Mamma, come mi diverto! Qualcuno mi ha visto che cadevo? Alice, che botta! Eccolo, tripe! Ti sbuccierei come una banana! Sono decisamente arrapata. Tocca a me! Un, due, tre! Signore? Oddio! Ho ucciso un uomo! Maglio chiamare la polizia. Ci conviene chiamare un avvocato. È chiaro che è stato un incidente, ma non toccate il corpo. In verità l'abbiamo toccato e come? Dobbiamo sbarazzarcene. Noi non vogliamo. Certo che no! Ma dobbiamo farlo. Jess, va tutto bene? Va tutto benone! E se qualcuno ci vede? È tardi, non gira nessuno a quest'ora. Che ci fate col bananone? Cosa? Girati, ciccia! È questo il momento di mangiare. Mangiare è il modo più comune per gestire lo stress. Ne volete un pezzo? Solo uno spicchio. Uno anche a me.